Avrebbe fatto da mediatore tra il consigliere di Stato Francesco Bellomo, di cui era collaboratore nella scuola di formazione giuridica, diritto e scienza, e una borsista per procurare al collega in debiti i vantaggi. Queste le motivazioni che hanno portato il Consiglio Superiore della Magistratura a sospendere dalle sue funzioni il pubblico ministero di Rovigo Davide Nalin. Si tratta di un provvedimento cautelare adottato in via d'urgenza. Sempre secondo le motivazioni che hanno portato il CSM a questa decisione, il fatto che con il suo ruolo nella scuola Nalin avrebbe esercitato attività vietate ai magistrati ordinari in violazione della circolare del CSM sugli incarichi extra-giudiziari del 2015. Non è affatto vero che mi sia prodigato per indurre ragazze da secondarie richieste illecite del consigliere Bellomo. Non ho mai fatto nulla di tutto ciò, così come nulla che potesse essere eletto come costruzione, men che meno facendo leva sulla mia figura istituzionale, quanto dichiarato da Davide Nalin. Finora, prosegue il PM di Rovigo, ho ritenuto opportuno non intervenire nel dibattito mediatico, pur essendo stato bersagliato di una campagna diffamatoria senza uguali, che mi ha fortemente dolorato e i cui effetti hanno colpito non solo me, ma anche la mia famiglia e persino la mia funzione di magistrato. Si tratta di un provvedimento, conclude Nalin, che fatico a comprendere, che inevitabilmente impugnerò, continuando ad avere fiducia nella magistratura alla quale ho dedicato la mia vita.